Antonio Pizzinato è iscritto alla CGL dal 1947 e quest'anno festeggia i suoi 65 anni di iscrizione alla nostra organizzazione. Nel 1964 entra nella segreteria della FIOM di Milano diventando responsabile di zona di Sesto San Giovanni. Nel 1975 viene eletto segretario generale della FIOM, poi segretario della Camera del Lavoro di Milano e nel 1981 segretario aggiunto in CGL Lombardia. Dopo una lunga carriera sindacale nel 1986 e fino al 1988 ricopre l'incarico di segretario generale della CGL. Nel 1992 viene eletto deputato, poi senatore ricoprendo anche l'incarico di sottosegretario al lavoro, attualmente presidente onorario dell'Ampi Lombardia. Data la sua lunga esperienza sindacale, sarà proprio Antonio Pizzinato a introdurci nel tema del ruolo del sindacalista. In un'intervista con Maurizio Laini ci racconta cosa ha significato per lui essere un sindacalista della CGL. Come abbiamo sentito la Sara, sono 65 anni che tu fai parte di questo mondo della CGL, fai sindacalista, sei un sindacalista nonostante tu oggi abbia cambiato mestiere e sei la persona più adatta a raccontarci chi è il sindacalista, anzi cominciamo da lontano, chi era il sindacalista, come viveva, quali erano le sue preoccupazioni quotidiane, quali erano i suoi problemi nel fare questo mestiere? Il sindacalista è evidente che il ruolo di sindacalista è molto diverso, perché una cosa è fare il sindacalista nel momento in cui si costruiva la CGL unitaria, un'altra è dopo la rottura del 49, altra ancora è dopo la conquista dello Statuto di Indirizzi dei lavoratori degli anni del 1970. Tu cosa facevi allora? Allora io ero in fabbrica, ero responsabile della Commissione di Giovanie della FIOMMA alla Borletti, mi hanno eletto con un'assemblea di giovani, i giovani erano circa 500 e mi dissero che dovevo essere il coordinatore responsabile dei giovani. Uno degli elementi di fondo era che ci spingevano a rapportarci, a costruire l'insieme, l'unità dei lavoratori partendo dalle cose concrete, cioè su quelle che erano le condizioni di lavoro che stavano cambiando, sia perché c'era la ricostruzione delle fabbriche dopo la guerra, sia perché c'era la riconversione produttiva, sia perché arrivava il fordismo. Facevi le assemblee con 6.000 persone, 5 volte l'anno? Allora non si facevano, prima della rottura dell'unità sindacale le assemblee si facevano durante i turni di mensa, i lavoratori mangiavano, i lavoratori lavoratrici e si parlava, si vedevano le reazioni. Poi si ascoltavano attraverso i rappresentanti che vi erano nei reparti, negli uffici e sulla base di questo vedere come costruire degli obiettivi che mettessero insieme i lavoratori era la cosa più difficile. Quando si introdussero le catene la conseguenza era che tu non ti potevi muovere perché se tu abbandonavi il posto di lavoro si bloccava la linea e uno dei problemi che non avevano affrontato l'azienda era che ci sono i bisogni fisiologici e io non potevo allontanarmi. Le donne mi ricordano trovarono forme di protesta e ci inventammo la prima richiesta, due pause, una al mattino dalle 10 alle 10 e 10, una al pomeriggio dalle 15 alle 15 e 10. Ma dopo una settimana le donne tornarono ancora inviperite e dissero ma che cosa? Va bene la pausa? Ma i bisogni fisiologici non sono a orari predeterminati e inventammo la nuova rivendicazione che fu quella dei sostituti in percentuale a qual era il tipo di lavoro. Ma cosa che spingeva uno a fare il sindacalista? La politica, il partito, si obbediva al partito. Era quello ma la cosa più importante è che eri di fronte a problemi che bisognava risolvere e quindi le idee, i valori che ti avevano portato a iscriverti al sindacato, a impegnarti ponevano un'altra esigenza che era quella di come organizzare, di come mettere insieme. non era una vita normale. Ma tu come scegli di fare il delegato? Come ti rendi disponibile? Perché? C'è un passaggio che è decisivo quando si decide, dopo un'ampia discussione del sindacato, sulla contrattazione di settore. Come fare le piattaforme? Si fa una consultazione scritta. Al mattino davanti all'ingresso delle fabbriche si distribuiscono i questionari. Alle 9 e mezza, 10, con calma? No, al mattino, presto, a seconda di vari, ma o è alle 6 e mezza o è alle 7 e mezza prima che entrino. E in relazione a quelle che sono le caratteristiche delle fabbriche si decidono... Quindi sui cancelli, intanto che entrano, sui piazzali. Sui piazzali. Di ritirarli poi il pomeriggio o la sera, quando termina l'orario, e poi sottoporre quello che è il risultato con assemblee sui piazzali. E quindi su questa base muoverci nella lotta per conquistare quegli obiettivi. La riduzione dell'orario di lavoro, l'aumento del salario, la contrattazione di un premio di rendimento, parità donna uomo, condizioni di vita. Come si costruisce il consenso? Come si costruiscono le idee? Come ci si scambia le idee allora? Si trasforma quel risultato in volantini. E il dialogo sui marciapiedi è immensa. Si ha un primo problema. Le aziende, facendo leva su una vecchia legge fascista, fanno il divieto di sostare sul marciapiede d'ingresso. Bisogna andare dall'altra parte della strada. Quindi ulteriore complicazione anche nel rapporto all'esterno della fabbrica. Il sindacalista pizzinato prima era sindacalista, quindi? Si, perché ritenevo che era fondamentale definire le condizioni di lavoro per poter poi avere i lavoratori protagonisti sul piano politico. Ma il sindacalista pizzinato, da delegato, ha promosso scioperi di testimonianza, scioperi di nicchia, scioperi di resistenza? Il mio primo sciopero è stato quando Scelba, a cui partecipai, quando Scelba destituì Troilo, prefetto della resistenza da prefetto a Milano. Ci fu lo sciopero, i lavoratori con i camion partirono da una prefettura, occuparono la prefettura e quindi fu un'esperienza tutta particolare che era di lotta politica. Oppure ricordo il secondo momento di esperienza di lotta fu quello del 14 luglio del 48, quando all'attentato di Togliatti un operaio che era stato, un comandante partigiano, saltò su un bancone di lavoro e fece il comizio dicendo hanno sparato a Togliatti e si incominciò così. Quattro giorni poi anche di occupazione della fabbrica. Abbiamo visto fin qui un mestiere, un mestiere, un lavoro molto militante, molto coinvolgente, 24 ore su 24, disperso in capannelli o concentrato in grandissime assemblee sui piazzali. La legge 300, la regolamentazione delle assemblee, l'aspettativa sindacale, come cambia il sindacalista? Tanto come cambia il sindacato? Perché il sindacato da sindacato per i lavoratori diventa il sindacato dei lavoratori. Ogni squadra, ogni ufficio, ogni turno elegge il suo delegato su scheda bianca. Ha il consiglio dei delegati. Non si compie nessun passaggio che siano le politiche rivendicative, le piattaforme, che siano le forme di lotta, che siano i passaggi di trattativa, di conclusione, se preventivamente non si sono consultati i delegati, i lavoratori, le loro squadre. Il lavoro sindacalista diventa più facile, ci sono le assemblee, ci sono i diritti, ci sono le assemblee, ci sono i diritti, è più facile rapportarsi con tutti i lavoratori. però le scelte devono essere più rigorosamente costruite e compiute nei veri passaggi con l'insieme del mondo dei lavori e dei delegati. È il sindacato dei lavoratori. Diciamo che il sindacato si arricchisce dopo la legge 300, si struttura. Il sindacalista entra a far parte di meccanismi e di procedure che si consolidano via via. Non è più così spontaneo e generoso il suo lavoro, ma è un lavoro. Con lo statuto dei lavoratori la Costituzione entra in fabbrica. Entra in fabbrica anche il sindacalista. Simbolicamente era stato portato vento sulle spalle mentre c'era la lotta dell'autunno caldo e in Parlamento si discuteva dello statuto dei diritti dei lavoratori in Parlamento. Dopo la riunione del Consiglio di fabbrica, l'assemblea dei lavoratori in fabbrica, nei diversi turni, poiché ci sono i diritti di assemblea, vedono la presenza del dirigente sindacale. È un salto qualitativo di arricchimento, di conoscenze, ma anche un salto che deve portarlo a ragionare con regole molto democratiche. Oggi è così? Oggi purtroppo si è un ritorno indietro per più motivi. Da un lato, facciamo l'esempio della Lombardia, la Lombardia meno del 20% dei lavoratori lavora in luoghi di lavoro con più di 250 lavoratori. Oltre il 50% lavora in luoghi di lavoro con meno di 15 dipendenti, praticamente uno su due. Quindi ho una non presenza radicata e organizzata. Non si è riusciti, come si è riusciti negli anni Ottanta a fare la legge che regola le modalità di contrattazione e l'elezione dei rappresentanti sindacali, due elementi fondamentali per la democrazia sindacale nel settore privato. Non c'è. Si ha un grande impoverimento anche nell'utilizzo delle norme statutarie al fine di avere partecipazione. I sindacalisti sono una casta? No, non sono una casta, però se non si cambia il modo di organizzarsi in relazione al cambiamento della struttura economica e produttiva, alla composizione dei mondi del lavoro, per ricostruire l'unità c'è il rischio di diventare un qualche cosa che non coglie quella che è la nuova realtà. Per questo io credo che le sedi del sindacato devono essere nei quartieri, nelle comunità, devono essere sedi aperte, centri di vita. Non siamo più a fronte della classe operaia. Non siamo più neanche di fronte al mondo del lavoro. Siamo in presenza dei mondi del lavoro. Quando ho incominciato io, negli anni 50, gli operai specializzati erano gli attivisti sindacali che proprio per le loro capacità e per il loro peso che avevano nelle aziende contavano. Oggi vi è la disattenzione. Fra chi ha un'altra professione è più debole a un rapporto di lavoro precario all'interno dell'azienda. Bisogna costruire un nuovo mondo e un nuovo modo di fare il sindacato anche da parte del singolo oltre che dell'intera organizzazione. Grazie.